Il tuo consulente agrometeo ti dà il benvenuto su Agronotizie. Il tempo previsto fino al 22 ottobre. Ebbene, l'alta pressione che insiste sulla penisola da una decina di giorni seguiterà ad abbracciare l'Italia almeno fino al 18 ottobre. Poi, tra il 19 e il 22, una perturbazione atlantica in movimento a nord delle Alpi porterà molte nuvole a nord, ma con poco arrosto, diciamo, molto fumo e poco arrosto perché le piogge saranno deboli o assenti. Bene, ma alta pressione ovviamente significa bel tempo e bel tempo purtroppo significa assenza di piogge in un momento critico in cui la gravità della siccità è drammatica e in un momento in cui per ottobre invece ci dovremmo attendere copiose piogge. Ma alta pressione significa anche un aumento dell'umidità in prossimità del suolo e quindi il raffreddamento notturno porterà le prime nebbie sulla bassa Lombardia, Basso Veneto e Ferrarese. Alta pressione però significa, con la serenità del cielo, temperature al di sopra della media nelle ore centrali del giorno. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliaci. Dal pulsante sottostante puoi visualizzare le previsioni di Cassa Tua. Grazie a tutti.